Ma Agonni era uno dei miei primi titoli ho fatto la prima volta quando ho avuto 27 anni ho fatto con studenti a un'università di Warwick in Inghilterra e quindi dopo quello ho fatto uno a Firenze per il Maggio Musicale per Italia 90 all'anno del calcio e quindi questa è la terza volta che affronto questo titolo in un mondo molto cambiato. Adesso questo mito di Brecht e Kurt Weill sarà sempre universale quando abbiamo perso proprio nessun punto di riferimento morale non si sa dove girare questo è la roba di questo che non è un'opera proprio che è un pezzo di teatro musicale che citta una musica dell'opera ma anche la musica del radio la musica commerciale popolare ma soprattutto la musica della proletarie ci sono tante citazioni delle marce del popolo è molto stimolante e una bella sfida perché siamo in una città che capisce più di tutte le città l'accesa e la caduta siamo circondate del passato quindi sta venendo fuori da me tutt'altro spettacolo